Bonprix torna la vittoria 3-0 secco contro la neopromossa Pont Saint-Martin. Si torna a sorridere in casa Bianco-Blu. In base alla tua prestazione, questa sera bene in difesa, bene soprattutto in battuta, ma in attacco un pochettino di fatica? Sì, ho avuto qualche difficoltà in attacco, soprattutto non so se è un blocco mentale, ma sicuramente ho ancora molto da lavorare sulla tecnica perché in questo periodo non sto dando il meglio in attacco e la squadra un po' ne risente. Avremo molto da lavorare ancora e da migliorare sempre ricezione e difesa che è ancora un po' dei dubbi, dell'instabilità. Comunque netti miglioramenti rispetto alla partita contro la Gilbert? Sì, dal punto di vista della squadra abbiamo avuto dei miglioramenti, ci siamo allenati molto sulla battuta e si è visto in campo e abbiamo ancora avuto dei problemi dal punto di vista della squadra, delle situazioni semplici che sbagliavamo, dove potevamo comunque risolvere facilmente, andavamo un po' in confusione, ma avremo anche da lavorare sempre su ricezione e difesa che sono i punti in cui soffriamo di più. Domenica, perché giocate in posticipo, andrete a giocare contro San Paolo in casa di San Paolo in un'atmosfera particolare? Con la palestra di San Paolo abbiamo già visto l'anno scorso, era un campo difficile perché la palestra è molto ristretta, perché il campo è diviso a metà e l'anno scorso abbiamo sofferto giocando contro di loro, speriamo che lavorando su settimana i miglioramenti comunque si vedano in campo e di riuscire comunque a giocare bene. Porta a casa a qualche punto. Esatto.